E' una raccolta fondi, è una cosa importante. E' sempre una cosa importante. Che angoscia, eh? Io sono negra, giusto? Abbastanza. Eppure, non ne posso più di sentire parlare dell'Africa che muore di fame. Lui è Carlo, mio marito. Ciao, Nadine. No, Carlo lavora sui computer. Chi è? Computer. Ho dovuto risettare tutto il sistema. Non hai aperto le cartelle? No, ma scherzi. Perché ce ne stiamo sempre tra di noi? Come mai non abbiamo neanche un amico bianco? Come mai non abbiamo neanche un amico nero? Come sono contenta di vedervi. Certo, è proprio vero che hanno il ritmo nel sangue. Mamma! Nadine era molto contenta. Di che cosa? Il computer. Ce l'ha anche riportato a casa. Non crede tu? No. Forse possiamo conoscerci e rispettarci e convivere in maniera civile. Hai una storia con Nadine? Dai, Elena, ti prego. Hai una storia con Nadine? Te ne devi andare. Dai. Ora! Portarti un bianco in casa? Ma non esiste. Che sere, Carlo? Ci deve essere un motivo se hai scelto di andare con una nera. Con la moglie di uno che lavora con me. La nera. Oh, bella donna. Bella. Un fatto di sesso hanno una marcia in più. È la sorella di mia moglie. Lasciala stare e vattene a casa tua. Tornate e vede voi a casa nostra! La diversità attira, Elena. Ma alla lunga non funziona. Non funziona mai. Ah, sì, eh? Senti, Elena, non è che le cose nella vita sono sempre bianche o nere. Volevo dirvi che ci sono le sfumature.